secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ecco ma non cambia il colore ma è sbagliata la livrea è troppo bianca ma è sbagliata la livrea è troppo bianca vediamo ho preso stamattina l'intelligenza artificiale quindi lui zero conoscenze zero gli hanno gli ha spiegato che pezzi doveva comprare come lo doveva montare cosa doveva fare e questo qua porco diazza ha fatto un mini reattore per la fusione nucleare in stanza del college guarda sono sulla lavagna della quinta b ciao ragazzi della quinta b studiate cazzo 313 sotto le vietture 5 mesi ciao bro io io gmg 4642 cinque mesi puoi salutare federico sblurdi ciao federico sblurdi grazie gm grazie dei cinque e domani e domani ciao doni e niente 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 io io doni su e b per quale motivo per quale motivo non esiste allora un jesu tutto c'è buon dì salve tutto bene tu come stai siamo morti sempre a cannone mi consuma l'energia non è vero non è vero provi a salvarmi mi hanno anche fatto mangiare un pesce dai raga mi hanno anche fatto mangiare un pesce mi hanno anche fatto mangiare un pesce come cazzo faccio allora signori facciamoci un giro ok mentality guys allora allora sto guardando se esce qualcos'altro ma non c'è nulla niente niente raga incredibile un fenomeno ragazzi penso abbia fatto un record assoluto voglio vedere il tempo che ha fatto un uomo ha una garanzia tra l'altro è anche un bravo IGL molto 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 bravo che cazzo c'è poi era solo per dire che fosse polifunzionale nel senso è molto bravo anche no fanfuck occhio incidente attenzione torna subito torna subito era solo per era solo per dare un po' di fanfuck ragazzi annuncia un uovo 2 di Piz Piz torna a fare Fragger fanfuck con l'IGL trovato trovato l'IGL ragazzi attenzione è molto bravo è molto bravo era pure brutto era bruttino quando l'ho conosciuto io aveva questi capelli corti bruttini bruttini ma io ero da che si lo vada si broda bestia della brianza che si lo vada si broda avevo donne che cadevano i miei piedi capirai se cosa le ragazzine di 14 anni lo sappiamo che cosa quello secondo me è una cosa che tu stai dicendo e continua ma è la verità cosa chi? tu pensi veramente che a 24 anni a me interessassero a 24 anni ma anche io coglione non sono ragazza mia quella là quanti anni aveva? chi? eh era minorenne ma io non so di chi stai parlando e non so chi ti abbia mai detto una cosa del genere ma io c'erano vista quella pagnottella era minorenne io non so di chi stia parlando eh penso che puoi chiedere a chiunque se è uscito con me in compagnia per tutta la vita quella pagnottella non so di cui stai parlando la vedo non ti ricordi? no quella ciccio oh merda più di così non si poteva raga più di così non si poteva raga merda veramente difficile veramente veramente complicato nice 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 figo bellissimo un piccolo check a Metapod ma penso di averlo molto bello questo Arbok Metapod numero 11 già eccolo qui l'ho visto è qua e allora ancora niente per me nella collezione purtroppo ma per voi c'è la possibilità di portarvi via immediatamente Mentality Mordomontagna 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 non so male questo ma probabilmente finirò più tardi la live ma si no amo ricollega lì e scollega dal cellulare che ti togliessero mi dica Gesù è con noi hashtag ha capito che sono sono 4.000 5.000 commenti 30 like Gesù Cristo è il nostro fantastico idolo che ti possa benedire la madonna anche cogliona è fatto coglia ma poi mettono le foto di quello che dice ho fatto il pane però non piace a nessuno vaffanculo non eravamo in torneo Jack si non guardare più porco di replay forte raga non si guarda scarci in culo forte raga ripeto ma troviamo protetti quindi Edz mancano 19 minuti facciamo una partita normale non in rank e poi cominciamo abbiamo delle missioni da fare tante missioni da fare sempre le bustine di un certo tipo in questo caso la bustina fossil l'ho comprato da Mirmex allora ecco fatto vedete che bello che è questo è si apre no? è one touch ah no scusatemi questo non è il one touch questo si apre si apre così no? ormai